In Irpinia il virus continua a circolare nelle scuole, altri quattro alunni positivi, sono tanti i contagiati nell'universo scolastico emersi negli ultimi dieci giorni, da quando hanno riaperto. Un dato allarmante che potrebbe spingere De Luca a sospendere di nuovo le lezioni in presenza. Nel capoluogo gli ultimi due casi riguardano un allievo della media Enrico Cocchia e uno della quinta elementare del comprensivo Pernalighieri. In entrambi i casi i dirigenti scolastici hanno provveduto alla sanificazione. Due casi anche a Solofra. Intanto il sindaco Festa ha confermato l'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti superiori almeno per un'altra settimana. E oltre ad Avellino chiuse fino al 13 anche le scuole di ogni ordine grado a Montella e Domicella, mentre a Mugnano del Cardinale attività didattiche in presenza sospese al liceo scientifico. Al pronto soccorso del Moscati tornano a crescere i ricoveri. Nelle ultime 48 ore 13 gli accessi per casi sospetti o conclamati Covid. Nella Palazzina Alpi al momento ci sono 40 degenti di cui sei in terapia intensiva. E ieri si è registrata un'altra vittima. Ha perso la vita un 57enne di Atripalda. Era ricoverato in terapia subintensiva dal 30 gennaio e il 3 febbraio era stato trasferito in intensiva. Poi il tragico epilogo ieri pomeriggio. Dolore che si somma a dolore nella cittadina del sabato già sotto shock dopo che il virus si era portato via il decano dei commercianti Sabino Trezza.